Ci sono però molti punti oscuri, perché qui è stato detto che è stata rilasciata grazie al lavoro dell'intelligence italiano che ha lavorato con l'intelligence omala e l'intelligence turca. In realtà noi avevamo una grossissima rete nel corno d'Africa che ci faceva invidia anche agli inglesi, agli americani e ai francesi e noi fornivamo le notizie. Questa rete è stata smantellata. Allora io mi domando perché non si va direttamente a chiedere aiuto all'intelligence omala e bisogna passare per l'intelligence turca? Questo è piuttosto strano, perché poi la Turchia credo che ci chiederà anche a lei delle contropartite politiche. Per esempio sulla guerra in Libia, dove noi appoggiamo Serraj, che ha appoggiato a sua volta dalla Turchia, ma noi abbiamo criticato, noi come Italia, il fatto che ci siano troppe armi in Kenya.